Ciao a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile, ben ritrovati dal nostro consueto appuntamento settimanale con la vita analisi sui principali mercati e le strategie dei nostri trading system. Oggi è mercoledì 5 febbraio 2020, focus di oggi su Piazza Affari e sul Fuzzimib. Prima di partire però volevo ricordarvi i prossimi appuntamenti gratuiti sul nostro sito tradingfacile.eu slash blog. Trovate gli eventi gratuiti della settimana, vi segnalo i prossimi due webinar. Giovedì 6 febbraio per parlare di super trend ore 17, mentre venerdì 7 febbraio alle ore 18 questa volta per parlare di analisi tecnica nel contesto attuale. Quindi mi raccomando trovate il link per iscrivervi sul nostro sito. Il consiglio è sempre quello di iscrivervi con previo anticipo in maniera tale poi da ricevere il reminder sulla vostra casella di posta elettronica e non perdere appunto la diretta. Detto questo torniamo subito sui grafici per parlare di Fuzzimib, mercato che ha reagito in questo inizio di settimana dopo le vendite diciamo ecco di settimana scorsa, dettate anche soprattutto dai timori per la diffusione del coronavirus. Detto questo diciamo volevo un attimino fare il punto della situazione, spiegare meglio perché diciamo ecco settimana scorsa per chi ci segue avevo scritto un articolo appunto identificando proprio quota 23.200 come livello dove io mi aspettavo che i compratori diciamo ecco potessero rientrare al mercato in ottica long e quindi difendere quello che a mio avviso era un supporto particolarmente significativo. Perché questa analisi? Perché semplicemente come detto il mercato da inizio 2019 sta scambiando all'interno di questo canale rialzista, quindi tracciando correttamente il canale che racchiude la successione di massimi e minimi io so già quello che è diciamo ecco il contenitore, tra virgolette del mio trend e come detto più volte all'interno di quello che è il canale principale, quindi al di là di quelli che sono gli estremi, che identificano massimi e minimi, il consiglio è sempre quello di focalizzarsi sul pivot centrale, quindi sul livello mediano. Perché? Perché è quello che misura poi la forza relativa, misura poi la tendenza appunto del mercato ad essere comprato oppure no. E quindi sotto questo punto di vista vedete che il pivot mediano passava proprio per quota 23.200 e quindi è chiaro che finché il mercato continua a scambiare all'interno della parte alta di questo canale, diciamo ecco tutte le correzioni che sono poi anche fisiologiche perché non ci si può attendere che il mercato insomma scambi sempre al rialzo, però sotto questo punto di vista le correzioni fino al pivot centrale sono appunto da intendersi come fisiologici ritracciamenti del trend rialzista, ma anche insomma ecco qualora dovessimo dovuto assistere, dovessimo assistito a discese fin sotto quota 22.400, comunque diciamo ecco la view rialzista sotto questo punto di vista sarebbe rimasta intatta. Certo qualche avvisaglia in più sarebbe arrivata, ma comunque non tale da farci cambiare l'outlook nel medio e lungo periodo. Quindi questa sicuramente prima considerazione e quindi comporta appunto, da qui deriva l'importanza di conoscere i dettami dell'analisi tecnica, quindi imparare a tracciare correttamente livelli statici e dinamici sul grafico, imparare a contestualizzare sempre la dinamica di prezzo e quindi anche avere una visione lucida e razionale, insomma una visione un pochino più di lungo periodo, al di là insomma ecco del fatto di quello che possa succedere diciamo dall'oggi al domani, specie con vendite che a mio avviso sono state un pochino più di pancia che altro, dettate come detto da timori per quello che è il coronavirus. Quindi questa è sicuramente la prima considerazione, altra considerazione è detta dal fatto che se anche il mercato dovesse sporcare sotto questo punto di vista quota 22.004, quindi uscire in un qualche modo da questo canale, l'invito qual è? È sempre monitorare la dinamica di prezzo passata e quindi fare una sorta di statistica un pochino più nel lungo periodo. Che cosa voglio dire? Che a quota 22.000 punti, se guardiamo, c'è comunque sia un livello veramente importante. Se guardiamo quanto è successo nel passato, nel corso degli ultimi dieci anni, ci accorgiamo che l'estensione delle vendite, o meglio in questo caso il cambio di visione, il cambio di outlook sul Fuzzimib, è arrivato sempre a seguito di una discesa sotto quota 22.000 punti. Quindi quota 22.000 punti rappresenta per il Fuzzimib una sorta di sbarramento per gli short seller. E quindi soltanto una discesa sotto quota 22.000 punti andrebbe un attimino a rimescolare, a cambiare l'equilibrio in campo e a cambiare sostanzialmente l'outlook di lungo periodo nel Fuzzimib. E quindi tutto sommato il ritracciamento di questa entità ci sta, come ho detto più volte, anzi contribuisce ancora di più ad accrescere la view rialzista sul Fuzzimib, il fatto che, come ho detto, la salita è stata ad un ritmo piuttosto sostenibile. Non abbiamo assistito a strappi veramente significativi al rialzo, quindi sotto questo punto di vista sappiamo che un trend più sostenuto, che cresce in maniera moderata, senza strappi significativi, ha maggior probabilità di protrarsi nel tempo. Prima di passare alle operazioni dei nostri trading system, volevo però darvi una pillola su Tesla. Negli ultimi due giorni ho ricevuto diverse richieste di analisi su questo titolo che ha avuto un esploit a dir poco clamoroso. Quindi la mia opinione per quanto riguarda il titolo Tesla è che ci sia ben poco di fondamentale. La salita è stata ben poco sostenuta dai fondamentali. È vero che i rialzi sono cominciati a seguito del rilascio dei dati trimestrali che hanno visto Tesla chiudere il primo esercizio in assoluto inutile della sua storia. Però è anche vero che qui, a mio avviso, la partita si svolge soprattutto come una guerra tra diversi investitori istituzionali. Perché? Perché sappiamo che Tesla è il titolo più sciortato di Wall Street. E quindi, a mio avviso, quello che è stato il rilascio dei dati, ha fornito, diciamo, ha buttato benzina sul fuoco e quindi ha fornito occasioni a qualche, diciamo, player istituzionale per mettere sotto pressione, diciamo, un qualche altro player, diciamo, di grosso calibro, posizionato chiaramente short. E quindi, diciamo, ecco, il dato trimestrale è stato un po' la scusa per andare a spingere il mercato, diciamo, fino a questi livelli. Però, ecco, ripeto, più che una mossa dettata dai fondamentali è stata, a mio avviso, pura speculazione di breve termine. Quindi, sotto questo punto di vista, attenzione ad entrare sui livelli di chiusura attuale. Perché? Perché, diciamo, il mercato potrebbe tranquillamente stornare anche un 20% nel breve termine, quindi occhio ad avere un prezzo di carico così in alto, dettato anche, appunto, questo dal fatto che quando assistiamo a movimenti così repentini, diciamo, ecco, strappi così significativi in un lasso di tempo molto breve, è altrettanto maggiormente probabile che il mercato debba in un qualche modo riassorbire, ok, questo eccesso di movimento, proprio perché è rapido e repentino. Quindi mi raccomando, perché il mercato, diciamo, potrebbe anche in un amen ritestare quota 700 o 600 punti, dove ritengo che ci sia, diciamo, ecco, il primo supporto statisticamente significativo e da monitorare. Bene, detto ciò, andiamo a commentare alcune operazioni svolte nel corso dei giorni precedenti dei nostri trading system. Prima operazione che vediamo, operazione intraday, aperta nella mattina di ieri, mercato che, andiamo su grafico a 15 minuti, sperimenta un innalzamento di volatilità, mercato che recupera 23.650 punti, vedete qui ex livello di supporto, diciamo, poi divenuto resistenza, il mercato con il break di volatilità di ieri mattina lo recupera, sotto questo punto di vista, appunto, entriamo, il segnale scatta 23.610 punti, operazione che viene liquidata alle 15.15, a quota 23.830 punti, quindi tutto sommato, diciamo, poco sotto i massimi di giornata. Altra operazione che vediamo, questa invece è un overnight, aperta nella giornata del 3 di febbraio, sotto questo punto di vista, sempre dal grafico, vedete il mercato che dà segnali di consolidamento in area 23.250, sotto questo punto di vista, vedete, entriamo al mercato a quota 23.360 punti su questo pattern di accumulazione su tali livelli, l'operazione poi viene mantenuta overnight, in questo caso il mercato, appunto, ci dà ragione, anche qui usciamo a quota 23.780 punti, quindi poco sotto i massimi di ieri. Bene, anche per oggi è tutto, io vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu per qualsiasi informazione ci potete scrivere a info-tradingfacile.net anche per oggi è tutto, un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti!